Ciao a tutti! Oggi voglio farvi un video dedicato alla Neme Cosmetics visto che il 9, ovvero mercoledì, inizieranno i Mineral Days perché non lo sapesse sono dei giorni dedicati, circa 15, dedicati agli sconti sui minerali di neve. L'anno scorso se non sbaglio ci fu il 20% di sconto con spedizione di mezzato e comunque variano spesso queste promozioni, quindi attenderemo un attimino. E quindi ho pensato di far vedere i miei minerali, anche se sono ancora pochini. Iniziamo dagli ombretti. Allora, inizio con l'ombretto dell'ultima collezione, peyote, che avete visto spessissimo nei miei tutorial. Vi lascio anche i tutorial dove l'ho usato, nell'info box, così potete un attimo vedere. All'apparenza sembrerebbe un bianco, ma in realtà è un bianco con dei riflessi verde lime. È un colore particolarissimo, vi lascio qui lo swatch, da asciutto e bagnato. In entrambi i casi ha dei riflessi particolari, che vanno appunto sul verde lime, un po' anche qualche puntina di dorato. È davvero un ombretto, secondo me, da avere. Vi dico la verità, quando l'ho preso, ho detto, va, ho detto, però non so come posso utilizzarlo. Invece è versatilissimo, poiché lo potete utilizzare come illuminante, perché fa una luce pazzesca. E per trucchi magari un po' più particolari, tipo quelli che vi lascio nell'info box, o semplicemente, tipo l'altro giorno andavo di corsa, ne avevo un trucco veloce, ho steso questo su tutta la palpebra, sfumato nella piega un po' di marrone, mascara, ed era fantastico. Quindi, davvero un ombretto, secondo me, da avere. Altro ombretto è Versailles, che è un oro, non so se definirlo, più oro o più bronzo. Sai di fatto che da asciutto a bagnato cambia, poiché da asciutto sembra molto glitterato, cioè è molto glitterato, mentre da bagnato diventa molto più metallizzato e con dei riflessi oro pazzeschi. Io lo uso anche spesso bagnato per fare la riga di eyeliner e viene un effetto davvero fantastico. E particolarissimo, davvero molto molto bello. Altro ombretto, Collier. Questo ombretto, diciamo che è da asciutto e dallo swatch è molto scrivente, ma una volta sfumato sulla palpebra a me rimane molto trasparentino. Ma da bagnato è un colore eccezionale, perché sembra un argento a vederlo così, ma in realtà ha dei riflessi blu all'interno, che loro hanno un colore particolarissimo, adatto per dei look da sera fantastici, anche per fare degli smoghi. Ed è davvero un colore molto molto bello e particolare, come tutti gli ombretti neve tra l'altro. E infine, purtroppo di ombretti ne ho solamente quattro. Ho incenso, che mi fu inviato come omaggio, e devo dire che appena l'ho visto sono rimasta un po' delusa, diciamo, perché non mi ispirava molto, sono sincera. Una volta poi swatchato ho detto, wow, perché sembra un marroncino a vederlo da qui, ma già così intuite che ha dei riflessi violacei, e pazzeschi, specialmente da bagnato, diventa molto più sul viola e non sul marrone, diciamo. Io lo uso molto nella piega dell'occhio, cioè in generale uso gli ombretti scuri nella piega, e diciamo che fa un effetto talmente pazzesco che a seconda della luce cambiano i riflessi, ed è davvero davvero bello. Vorrei dire una cosa sugli ombretti neve. A me piacciono da impazzire, perché è difficilissimo trovare dei dupe in giro, perché hanno dei riflessi, secondo me, unici, particolari, e quindi non è il classico ombretto che puoi trovare uguale da Kiko, da Essence, no, sono degli ombretti, secondo me, fantastici. Anche a differenza delle cialde, comunque che sono ombretti, diciamo, un po' più classici, questi sono veramente, veramente eccezionali. Poi, ho due minerali che vi ho già mostrato nei miei top di giugno, che vi lascio il link. Uno è il fondotinta minerale, che appunto ve lo strastra consiglio, per chi vuole una buona coprenza, e un fondotinta leggero, che non faccia macchie, con il sudore, quindi diciamo, perfetto per l'estate, è davvero davvero fantastico, comunque, se vi vedete il video di Top e Flop, ne parlo assolutamente meglio. E anche, stessa cosa della cipria. Questa è la cipria Hollywood, la vedete scritta da me, perché l'ho travasata in una full size, e come vi ho già detto, questa in realtà è una mini, e la sto usando da un mesettino, e ancora ce n'è, quindi, insomma, se non siete straconvinte, specialmente per fondotinta, blush, cipri e terre, io vi consiglio di provare le mini, poiché il prezzo è di, se non sbaglio, 3,90 euro, quindi assolutamente conveniente, e vi fate un'idea generale, perché comunque riuscire a sfruttarlo parecchio, e poi, insomma, decidete voi se acquistare la full o meno. Anche gli ombretti, quelli sono tutti, tutti i mini size, perché, cioè, durano tantissimo, io non so se mai riuscirò a finire tutta la polvera all'interno, quindi c'è, a comprare una full size, a meno che non usare tutti i giorni, sempre solo quella, se non me la trovo un'altra un po' inutile. Niente, questa cipria è sinceramente fantastica, perché ha una pelle mista, grassa, applicata la mattina, dura tutto il giorno, non fa lucidare assolutamente, lascia una pelle vellutata, perfetta, fantastica, e ci sono altre, diverse cipre di neve, io sono sincera, provo solo queste, e penso di non comprarne altre, perché appunto mi ha soddisfatta al 100%. Ultimo prodotto, è un blush, ed è il blush su, anche questo, travasato nella full, perché, insomma, prelevate da quel pennello, del blush da una giara così piccolina, è un po' scomodo, ed è un blush davvero fantastico, e soprattutto per me, che ho tutti i blush, diciamo, con microperlescenze, glitterini, e questo invece è un blush completamente matte, opaco, è un rosa, semplicissimo, proprio diciamo, un blush da tutti i giorni, ha una buonissima durata, cioè io lo metto la mattina, la sera, quando vado a struccare, ancora ce l'ho, e molto molto pigmentato, quindi, attenzione, se non si vuole l'effetto Heidi, ed è davvero davvero buona, anche questa appunto, è una mini, anche secondo me, cioè, anche per i blush, secondo me conviene alla grande, e, niente, ve lo consiglio appunto, anche perché non è semplicissimo, trovare in circolazione, un blush totalmente opaco, quindi, niente, ho finito, so che non sono tanti prodotti, purtroppo, però, spero comunque di esservi stata d'aiuto, perché non aveste mai fatto un ordine neve, volevo comunque ricordare, che se spendete intorno ai 20-25 euro, quando andate avanti nell'ordine, c'è un riquadro in basso, dove potete scrivere, e se non sbaglio, c'è scritto altre informazioni, magari ve lo lascio scritto, e là potete richiedere un omaggio, potete scrivere, buonasera, vorrei gentilmente, sapere se è possibile, ricevere in omaggio, e scrivete, fate conto che intorno ai 25 euro, si può richiedere in omaggio, o una mini piombretto, o un pastello, io devo dire due ordini che ho fatto, perché le altre cose, le ho comprato un po' nelle bioprofumerie, e due ordini che ho fatto, due ordini che mi hanno assolutamente soddisfatto, in una ho chiesto un ombretto minerale, senza specificare il nome, e mi hanno mandato appunto incenso, nell'altra le ho chiesto il pastello bosco, quindi insomma avevo specificato, me l'hanno mandato, e niente, questa cosa secondo me è fantastica, perché comunque, e ricevere un omaggio, che va da 3-4 euro, è comunque anche come, diciamo ammortizzare un po' le spese di spedizione, oltre che una coccola per il cliente, e certo, l'ultima promozione che hanno fatto, se non sbaglio era quella sui pennelli, le spedizioni erano a 2 euro, e hanno un po' alzato la soglia, per gli omaggi, però insomma, si può capire questa cosa, però tentare non nuoci, io lo chiedo sempre, per due volte mi è andata bene, spero anche le prossime, e niente ragazzi, fatemi sapere voi, quali ombretti minerali di neve avete, se me ne avete qualcuno da consigliare, visto che la mia wishlist è ancora in creazione, e ci vediamo alla prossima, ciao!